... Sì, 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 Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. BELT ME 이 XX야. 내가 죽이기 전까지 넌 못죽어. 휴게소는 안 가나? 뭐? 배고픈데. Ah Ahahahhahha Noi e io cosa sbagliare? Ahahahahha Cosa che non lo soppone? Che cosa dàpare e coltello? E' un po' di fai Cosa 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 Sì Sì, è vero. Oh no. E'vonne a te dieci. E'vonne a te dieci. Sì 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 Grazie.